L'avvenente attrice Laura Torrisi, volto noto del cinema italiano, è stata l'ospite d'onore della nona edizione del Wedding Expo, una delle più grandi fiere dedicate agli sposi che ogni anno popola l'area antistante e il parco commerciale di Gioia Tauro. L'evento ha ospitato per quattro giorni numerosi espositori del wedding e dell'arredo casa, giunti da tutta la Calabria. Non solo espositori, ma anche momenti di moda e spettacolo, come le sfilate di moda, che hanno visto in passerella le collezioni 2019 di Abir da sposa Made in Italy, realizzati dai fashion designer calabresi che hanno ancora una volta dimostrato talento, professionalità e tanto estro. A presentare l'evento, organizzato e promosso dalle società mediterranea comunicazione di Antonio Rositano e la Rosa Fiere di Vincenzo Larosa, è stata Alessandra Giulivo, presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer e pioniera del mondo delle sfilate. L'attrice catanese, madrina d'eccezione del Bridal Trends, dopo aver fatto un giro tra gli stand, ha confessato di essere rimasta molto colpita dalle collezioni di abiti della sposa. Devo dire che ho trovato tutto estremamente favoloso e romantico, sono comunque delle linee morbide, molto romantiche anche loro, quindi ho apprezzato questo ritorno, essendo una romantica, romanticismo. Da Gioia Tauro per la C News 24.